All'inizio ho pensato fosse una trappola, che avevano scoperto tutto, però non hanno proprio, quindi è la parola di Lollo e Balbo contro la mia. Perché ti stai mettendo nei casini per me? Chi te lo fa fare? Me lo fa fare quel posto orrendo. Non lo so, mi viene l'angoscia a pensarti chiuso lì dentro. Chi fa le stronzate le paga. Sì. Ed è giusto. Senti, Simo, è meglio che me ne sto per i fatti miei. Porto solo guai. Io non ti voglio incasinare la vita. Non ti preoccupare, la vita me la incasino da anni. Ci vediamo. A presto.